In mano via Moreira, il capitano, il numero 10, Alessandro! Daiale, Daiale! No, qui è fidato, è Piero o Pirlo? Pirlo dice? Vai, Ale! Eh, ma per 25 minuti la borsa, questo spazzare! Ah, vai, vai! Sì! 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 Alessandro! Piero! Sì! Alessandro! Piero! Alessandro! Piero! Piero! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.